La partenza è considerata valida con al comando il numero 5 di Olympique OM che sta guidando nei confronti del numero 4 Northbound, poi il numero 7 di Janos che però allarga e finisce con lo sbagliare, terzo in corda il numero 2 di Moshito Vita, poi il numero 8 di Nicky Van al comando Olympique OM dopo 500 metri di gara, molto svelti per Olympique OM che l'ha presa meglio di tutti nei confronti di Northbound, adesso Moshito Vita vuole rompere gli indugi presto e andare subito su Olympique OM, Northbound che corre meglio sotto Aspetta, adesso è vediamo la scelta di Gennaro Pacileo ma è immaginabile che al comando Moshito Vita passi dopo 700 di gara, al comando Moshito Vita su Olympique OM, Northbound, poi Nicky Van e poi Nino De Gloria, mentre gli altri sono tutti fuori corsa a tabellone, sempre Moshito davanti a Olympique OM, Northbound, scarierante a largo ma squalificata da tempo è Mirabella Giampi che deve essere sfogata. Al comando Moshito che adesso sta anche rallentando, cercando insomma di rendere tattica la corsa, tant'è che sposta Nino De Gloria, anticipato da Northbound Cavalli che adesso attaccano i 700 finali, Northbound che va su Moshito Vita con Nino De Gloria che anche lui ha spostato, l'UMPICOM sempre lì sotto chiude Nicky Van. L'attacco di Northbound a Moshito Vita sembra risolutivo perché Moshito non reagisce e così Northbound quando mancano 400 alla fine è passato su Moshito Vita che è un passistone forse ha fermato troppo, all'esterno Nino De Gloria poi Olympique OM sempre davanti a Nicky Van con Northbound che adesso deve vedersela da Nino De Gloria che continua sulla sua strada, Northbound si è piantato, Nino De Gloria sta passando, all'esterno c'è anche Olympique OM che sta stracorrendo, poi Moshito Vita che torna davanti a Nicky Van con Nino De Gloria che è passato e va a concludere, Nino De Gloria con René Legati sin sul palo, vince Nino De Gloria su un ottimo Olympique OM, poi il 2 di Moshito Vita la vittoria per Nino De Gloria, René Legati 5.25 che è quota per Nino De Gloria secondo Olympique OM, terzo Moshito Vita, è tutto per la sesta del San Paolo